Buonasera a tutti. Con questa lezione concludiamo la parte di teoria che ha a che fare con la rappresentazione dell'informazione. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto la rappresentazione dell'informazione di tipo intero, col binario puro, oppure di tipo intero relativo, utilizzando il complemento 2 essenzialmente. Oggi proviamo a fare ancora un passo oltre rispetto alla rappresentazione dei numeri interi per valutare alcune tecniche di rappresentazione dei numeri reali, che vedremo a un livello sicuramente meno approfondito, anche perché si tratta di un argomento di per sé abbastanza intricato, abbastanza complicato. Quindi noi possiamo pensare di voler rappresentare dei numeri che chiamiamo reali, ecco fatemi mettere delle virgolette, tra virgolette reali, perché sapendo che con la precisione finita, con il numero di bit finito di un calcolatore, non si potrà mai rappresentare veramente un numero reale che è un numero di cifre decimali infinite. Quindi diciamo che di sicuro dovremo aggiungere, almeno mentalmente, il fatto che questa rappresentazione è una rappresentazione approssimata in qualche modo, approssimata tenendo conto del numero di bit che ho a disposizione per poter lavorare, per poter rappresentare i miei dati. Quindi più bit dedicherò, più riuscirò ad avere una precisione maggiore, ma chiaramente non sarà mai infinita questa precisione. L'altra considerazione da fare è che quando parlo di numeri reali sto parlando di due famiglie molto diverse di valori, i valori, diciamo così, che contengono una parte frazionaria, quindi un normalissimo, ne so, 1,5, 0,1, sono numeri che non sono numeri interi, ma sono numeri che tutto sommato hanno, sono nel range della rappresentazione dei numeri interi, ok? Mentre invece potrebbero essere la stessa rappresentazione per i numeri reali, la vogliamo usare anche per rappresentare numeri con ordini di grandezza, ordini di grandezza elevati o minimi, cioè 10 alla 27 oppure 10 alla meno 15 cose di questo genere 10 alla 27 è un numero intero, quindi uno diceva, perché mai lo vuoi rappresentare come numero reale? In realtà è un numero intero che magari richiederebbe un numero eccessivo di bit per essere rappresentato in binario puro, pur essendo un numero intero positivo e quindi spesso si usa la rappresentazione, cosiddetta floating point, che vedremo tra un attimo, proprio per riuscire a estendere anche l'intervallo di rappresentazione dei numeri. Estendolo verso, diciamo così, il più infinito, con delle potenze elevate del 10 oppure verso il meno infinito, chiaramente questi sono numeri frazionari molto piccoli vicino all'1. Questi sono i tipi di numeri che vogliamo rappresentare. Per rappresentarli, in realtà, in teoria ci sarebbero due alternative, teoricamente. La prima alternativa sarebbe quella di fare un passo avanti, così come abbiamo fatto per la rappresentazione in modulo e segno e prima ancora, e poi successivamente meglio col complemento 2, era quello di lasciare qualcosa di sottinteso. Nel complemento 2, credo, c'è il sottinteso, c'è un meno. C'è un meno da mettere, che è sottinteso e non compare davanti al peso del bit più significativo. E questo cambia completamente l'interpretazione dei numeri e quindi ci ha permesso di rappresentare anche numeri negativi. Allora potremmo anche qua, sui numeri frazionari, usare una virgola sottintesa. Cioè, noi rappresentiamo un numero con una sequenza di bit, ma senza dirlo a nessuno, anziché considerarlo come un numero intero, pensiamo che a un certo punto ci sia una virgola che non compare, non si vede, perché ovviamente i bit sono o 0 o 1, ma in un certo punto noi sappiamo che dobbiamo immaginarci la presenza del punto decimale, della virgola decimale. Quindi vuol dire che i bit che sono alla sinistra della virgola saranno bit normali di parte intera, quindi avranno peso 2 alla 0, peso 2 alla 1, peso 2 alla 2, e così via, come già sappiamo, 2 alla 3. Ma i bit alla destra di questa virgola immaginaria, che noi possiamo solamente condividere, dire dove si trova, ma il calcolatore non lo sa e non lo può rappresentare internamente, abbiamo la parte frazionaria, che così come in base 10, dopo la virgola c'è un decimo, un centesimo, un millesimo, e in base 2, dopo la virgola, che cosa ci sarà? Ci sarà 2 alla meno 1, cioè un mezzo, ci sarà 2 alla meno 2, cioè un quarto, 2 alla meno 3, cioè un ottavo, e così via, in funzione di quanti bit ho a disposizione, e così dall'altra parte. Quindi è possibile, in modo abbastanza naturale, estendere la rappresentazione in binario puro, o anche quella in complemento 2, se decidiamo che il bit più significativo sia un bit di segno, è possibile estendere dalla rappresentazione di numeri interi alla rappresentazione di numeri frazionari, in virgola mobile, dedicando un certo numero di bit alle potenze negative del 2. Cioè, di fatto, quello che stiamo facendo, se io avessi, ad esempio, 4 bit per la parte frazionaria, moltiplicare tutti i numeri per 16, e prendere una parte intera, alla fine, perché vuol dire che è come se io prendessi un numero intero e spostassi la virgola di 4 posizioni, quindi dividendo il numero per 16, e per ottenere il numero frazionario che voglio. E quindi, partendo dal numero frazionario, moltiplico per 16, ottengo il numero intero. Questa rappresentazione, molto semplice, viene raramente usata. Come sempre, le cose semplici non ci piacciono, o purtroppo ci piacerebbero, ma non ci bastano. Perché non ci bastano? Perché questa rappresentazione permetterebbe a due difetti. Il primo è proprio il fatto che la posizione della virgola, visto che non è scritta da nessuna parte, deve essere fissa. Deve essere sempre nello stesso punto. E allora, se la virgola si trova sempre nello stesso punto, io avrò una ripartizione fissa dei bit a disposizione. Allora, ci sarà un giorno in cui vorrò rappresentare un numero intero più grande e mi daranno fastidio quel bit che ho dovuto riservare alla parte frazionaria. E ci sarà quel giorno che invece voglio rappresentare un numero frazionario più piccolo e allora mi daranno fastidio aver speso tutti quei bit per la parte intera. Quindi, in qualche modo, non mi permette di giostrare bene, di modulare bene la precisione che ho per la rappresentazione dei numeri. E il secondo difetto di questa rappresentazione è che questa seconda casistica di numeri con ordini di grandezza molto elevato o molto ridotto non è per nulla compatibile con questa rappresentazione. Questa rappresentazione serve per dare una parte frazionaria a dei numeri che siano grossomodo nel range, nell'intervallo dei numeri interi. L'intervallo ovviamente è ridotto perché poiché alcuni bit me li mangia la parte frazionaria l'intervallo di rappresentazione dei numeri interi sarà sempre 2 alla n-1 ma dove n è solamente il numero di bit dedicati alla parte intera non il numero di bit complessivi. Come dicevo, per questi due motivi questa rappresentazione praticamente non si usa e se ne usa una invece un pochino più complicata. Questa rappresentazione viene detta virgola mobile da cui poi in Python usiamo un tipo di dato che si chiama float float sta per floating point appunto alla virgola floating è mobile, può spostarsi può galleggiare può spostarsi in diverse posizioni. Questa rappresentazione si basa sulla possibilità di rappresentare un numero in notazione scientifica. Noi normalmente quando scriviamo il numero 3,14 sappiamo che in notazione scientifica si può scrivere 3,14 per 10 elevato a 0 oppure 0,314 per 10 elevato a 1 oppure diciamo così 31,4 per 10 elevato a meno 1 eccetera eccetera è una rappresentazione in cui ci sia un coefficiente che moltiplica una potenza del 10 ok? La notazione scientifica è normale. Poi nella notazione scientifica di solito si sceglie il coefficiente davanti in modo che questo sia compreso tra 1 e 9 maggiore o uguale a 1 minore di 10 in modo che ci sia 3,14 preferibilmente lo scriverò 3,14 per 10 elevato a 0 che non 31,4 per 10 alla meno 1 quindi sposto anche la vostra calcolatrice fa questo ragionamento cerca di mettere spostare la virgola e aggiustare l'esponente del 10 in modo che davanti alla virgola ci sia una cifra sola è più facile da leggere è più facile da capire l'ordine di grandezza questo coefficiente in termini tecnico si chiama mantissa per questo qua indicato come m e noi lavoriamo in base 10 ma se trasliamo questo concetto nella base 2 del calcolatore chiaramente stiamo parlando di una potenza della base una potenza del 2 e non una potenza del 10 quindi un numero frazionario un numero reale chiamiamoli reale tra virgolette si può rappresentare specificando tre informazioni innanzitutto dando per scontato che lo scriviamo in notazione scientifica e a questo punto diamo tre informazioni il segno del numero la mantissa cioè il coefficiente che ci metto davanti alla potenza del 2 e l'esponente da dare alla potenza del 2 con queste tre informazioni segno mantissa ed esponente riesco a caratterizzare il numero che mi interessa ok questa slide mi accorgo adesso che è sbagliata questo non è 10 alla meno 5 ma è 2 alla meno 5 perché questo 1 è spostato di 5 posizioni sulla destra ma vabbè poco importa quindi noi usando questo trucco possiamo avere entrambi i vantaggi della rappresentazione intera della rappresentazione in virgola fissa e in più la possibilità di espandere l'intervallo di rappresentazione giocando sugli esponenti perché l'esponente ricordiamoci che noi abbiamo una mantissa più o meno mantissa per base elevato all'esponente se questo esponente è molto grande questo esponente del 2 è molto grande allora rappresenterò dei numeri che hanno un ordine di grandezza molto grande se invece questo numero è un numero molto piccolo cioè negativo ovviamente piccolo intendo magari un meno 40 ecco una cosa del genere è sempre l'esponente è sempre un numero intero chiaramente è una potenza della base potenza positiva o potenza negativa se è una potenza negativa della base mi darà diciamo così mi sposta fatemi dire così in giro mi sposta la virgola a sinistra di molte posizioni se invece ho un esponente positivo molto elevato mi sposterà la virgola a destra di molte posizioni quindi l'esponente in qualche modo mi dice dove si trova la virgola se più a destra o più a sinistra sto moltiplicando per 10 sto dividendo per 10 qui sto moltiplicando dividendo per 2 chiaramente ma è la virgola binaria che si sposta avanti e indietro l'esponente quindi mi dà la posizione della virgola e la mantissa mi dà diciamo così il valore del numero il valore del numero all'interno di quella sua potenza di quel suo intervallo di rappresentazione quindi giocando con l'esponente io posso spostare la virgola la virgola non è più fissa si può spostare quindi i bit che prima dedicavo ipoteticamente alla parte frazionaria a questo punto li dedico invece a dire quella è la posizione della virgola e i restanti bit saranno interi o saranno frazionari a seconda di dove si trova la virgola stessa quindi ci abituiamo a scomporre un numero in virgola mobile secondo queste tre quantità il segno che appunto semplicemente è positivo o negativo e quindi noi lo rappresenteremo con uno zero o con un uno così come già facevamo per i numeri in modulo segno o per i numeri in complemento due zero vuol dire positivo uno vuol dire negativo l'esponente con il suo segno è un numero intero che ovviamente avrà un certo intervallo di rappresentazione e la mantissa invece sono i restanti bit che verranno interpretati come numero in virgola fissa perché in virgola fissa? ma perché anche in base 10 lo facciamo quando abbiamo detto che 3,14 per 10 alla 0 preferiamo scriverlo così perché così davanti alla virgola abbiamo una sola cifra decimale la stessa cosa vale per il binario davanti alla virgola cercheremo di avere sempre lo stesso numero di cifre decimali tanto la virgola la spostiamo se dobbiamo spostarla cambiando l'esponente e quindi questa formuletta ci permette di dividere i bit che ho a disposizione magari voglio rappresentare un numero in floating point su 32 bit su 64 bit li divido ci sarà un bit che viene usato per rappresentare il segno un certo numero di bit che verranno usati per rappresentare l'esponente e un certo numero di bit che verranno utilizzati per rappresentare la mantissa entrando maggiormente nel dettaglio da questo concetto generale sono nate delle rappresentazioni standard molto ben definite che sono rappresentazioni che sono state poi progettate nell'hardware dei nostri computer all'interno dei microprocessori e quindi all'interno del nostro computer i numeri sono effettivamente rappresentati in uno di questi due formati sono stati normati con uno standard cosiddetto IEEE 754 molti anni fa che definisce come innanzitutto definisce due principalmente due formati il formato in singola precisione e il formato in doppia precisione nel linguaggio nel linguaggio C queste due variabili sono chiamate float e double questo tipo di rappresentazioni mentre invece in python il float del python è messo qua usa sempre la doppia precisione mentre invece in python la singola precisione non si usa non viene rappresentata anche perché essendo un linguaggio che è nato dopo il fatto che usi più bit dà meno fastidio allora il formato in singola precisione usa per rappresentare un numero reale 32 bit mentre invece il formato in doppia precisione usa 64 bit per rappresentare ciascun numero reale questi bit come li usano? un bit sempre per il segno del numero quindi il più o meno un certo numero di bit per l'esponente che nel caso della singola precisione sono 8 nel caso della doppia precisione sono 11 e i restanti bit per la mantissa nel caso della singola precisione la mantissa sarà su 23 bit e nel caso della doppia precisione la mantissa sarà su 52 bit il totale fa ovviamente 32 in un caso e 64 bit totali nell'altro la mantissa come dicevamo è in virgola fissa quindi con una cifra davanti alla virgola poiché siamo in binario la cifra davanti alla virgola non può che essere 1 deve essere 1 abbiamo solamente 0 e 1 0 vuol dire che quella cifra non c'è quindi dovrei spostare la virgola più a destra per andarmi a pescare quella prima cifra significativa e quando la troverò sarà sicuramente un 1 quindi questa cifra 1 che è l'unica cifra prima della virgola visto che è sempre 1 non viene neppure rappresentata e quindi è qua possiamo immaginarci che ci sia 1 virgola sottinteso questo 1 non occupa spazio sarebbe stupido la virgola non deve occupare spazio perché so che è sempre lì ma l'1 visto che è sempre un 1 sarebbe stupido sprecare un bit per rappresentare un valore che è sempre costante ma questo se vogliamo è un dettaglio che si sono diciamo così inventati gli ingegneri dei treppoli quando hanno definito questo standard questa rappresentazione su questo sito che è indicato sulle slide floss.exposed è un sito carino che ci fa vedere come funziona questa rappresentazione ad esempio noi vogliamo rappresentare il numero 1 scriviamo 1 e in singola precisione lui mi dice che questo 1 si rappresenta in questo modo il segno andiamo sotto 1 per 2 alla 0 per 1 1 è il segno 2 alla 0 è l'esponente 1 è la mantissa il segno è positivo e quindi il bit di segno indicato qua in rosso vale 0 ed è il primo che abbiamo indicato qua sopra la mantissa vale 1 l'1 si rappresenta in questo modo dove 1 virgola è sottinteso e gli altri 0 su quelli siti in blu fanno parte della rappresentazione della mantissa del numero l'esponente è codificato in un modo strano non sto da approfondire viene chiamato eccesso 127 cioè se l'esponente vale in questo caso 0 viene rappresentato il numero 127 cioè all'esponente vado sempre sommare 127 nel caso della singola precisione 1023 nel caso della doppia precisione questo è perché in questo modo l'esponente sarà sempre un numero positivo questo dice ovviamente che l'esponente più piccolo potrà essere meno 127 a cui sommo il più 127 è un altro tipo di rappresentazione dei numeri diciamo così relativi interi relativi a cui non abbiamo dato spazio nella parte precedente però a noi interessa sapere che lo 0 è codificato da questi bit in verde con questa codifica strana eccesso 127 che sono rappresentati qua quindi quando io scrivo 1.0 in realtà all'interno del calcolatore va a finire questo valore quando scrivo 100 beh il 100 verrà decomposto in andiamo a vedere qua segno positivo potenza del 2 2 alla sesta 2 alla sesta fa 64 e 1,5 erotti per 64 da 100 e così via se io volessi rappresentare 10 milioni 10 milioni vedo che riesco a farlo e ovviamente la potenza del 2 comincia a salire 2 alla 23 e così via ok e se voglio andare sui numeri frazionari beh 0,5 è facile 0,5 sarà 1 per 2 alla meno 1 1 come mantissa 2 alla meno 1 come esponente e quindi si rappresenta in questo modo ovviamente poiché la mantissa è 1 qui vedo tutti i 0 perché l'1 virgola è quello sottinteso e questa è una rappresentazione che mi dà il valore meno 1 poi ci sono cose carine se io provassi a rappresentare 0,1 non ci riesco lui dice guarda senti 0,1 io non sono proprio capace di rappresentarlo il meglio che riesco a fare è rappresentare questo valore questo valore che è ottenuto con questo numero qui in base 10 per 2 alla meno 4 perché se io provassi a mettere un 1 un'unità in più mi andrebbe già troppo avanti un'unità in meno mi andrebbe troppo indietro se io aumentassi di 1 la mantissa è un numero maggiore se la diminuissi di 1 sarebbe un numero minore di 0,1 quindi il numero che più si avvicina a 0,1 non è 0,1 preciso ma è questo numeraccio qua alla fine che cosa succede che 0,1 in base 2 non si può rappresentare in modo esatto così come un terzo non si può rappresentare in modo esatto in base 10 neanche in base 2 per esempio ma un terzo ci eravamo già più abituati un decimo ci dà un pochino più fastidio questo perché ovviamente le potenze del 2 non contengono il 5 che è un ingrediente fondamentale per poter rappresentare 10 alla meno 1 poter fare un 5 alla meno 1 quindi dobbiamo già abituarci che alcuni numeri che non sono numeri stranissimi non pi greco e elevato a robe strane no ma un decimo 0,1 che per noi è fondamentale non si può rappresentare in modo esatto si rappresenta con un errore di rappresentazione che è in là perché questo errore di rappresentazione arriva dopo 1,2,3,4,5,6,7 8 cifre significative quindi un errore relativo di 10 alla meno 8 errore assoluto in questo caso sarebbe 10 alla meno 9 quindi è un errore molto limitato ma non è 0 anche numeri diciamo così normali sono rappresentati in modo approssimato se io passassi in doppia precisione avrei ovviamente e provassi a rappresentare 0,1 in doppia precisione avrei ovviamente un errore minore perché avendo molti più bit per la mantissa riesco a approssimare meglio questo valore però di nuovo non lo prendo mai esattamente perché cambiando di 1 il valore della mantissa ci giro intorno allo 0,1 ma non lo becco mai esattamente mentre invece altri valori come appunto lo 0,5 essendo 0,5 un mezzo una potenza di 2 lo possono rappresentare in modo esatto e poi ovviamente potrò andare avanti cambiando la mantissa a trovare i valori intorno al numero stesso tra l'altro questo sito mi dice anche quali sono i valori subito dopo e subito prima rispetto al valore rappresentato di quanto differiscono quindi il valore successivo differisce di 10 alla meno 16 17 che ci da grosso modo la precisione di rappresentazione che posso ottenere in virgola in virgola mobile con doppia precisione con i tavoli quindi come vedete è abbastanza complicato sia rappresentare questi numeri sia soprattutto poi farci i calcoli sopra però è il modo che usano i calcolatori per fare i calcoli noi dobbiamo semplicemente essere coscienti innanzitutto di questo meccanismo di rappresentazione il fatto che la precisione non è infinita è limitata e quindi in qualche modo qualunque operazione aritmetica dovrà fare il conto fare i conti col fatto che il risultato sarà sempre e necessariamente approssimato e alcuni numeri come lo 0,1 che abbiamo appena visto non sono per nulla rappresentabili in modo esatto e questo chiaramente non sono numeri strani sono numeri diciamo di tutti i giorni se voi provate a rappresentare un ammontare in denaro 10 euro e 3 centesimi quindi euro 10,3 visto che 0,3 contiene diciamo così 3 decimi un decimo non è rappresentabile in modo esatto quindi 10,3 non è rappresentabile in modo esatto e porta un errore di approssimazione per carità dell'ordine di 10 alla meno 8 o di 10 alla meno 16 quando abbiamo visto ma c'è comunque questa di approssimazione che con operazioni ripetute potrebbe dare problemi soprattutto questo è un problema l'altro problema è che ci sono ovviamente dei valori che sono rappresentabili con questa formuletta mantissa per 2 elevato esponente e dei valori invece che non sono rappresentabili perché io l'esponente lo posso aumentare 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 ma poiché abbiamo visto che l'esponente è su 8 bit in singola precisione quando ho 2 alla 8 come esponente 2 alla 127 come esponente 127 è il numero più grande che posso rappresentare su quello esponente che fa circa 10 alla 38 oltre di questo non posso andare quindi non posso rappresentare numeri più grandi di questo valore nel caso della doppia precisione si arriva fino a 10 alla 308 che è un numero esagerato ma oltre non posso andare non ce la faccio non ho abbastanza esponente per poter spostare la virgola ancora di più e quindi in questo caso ho delle condizioni che a seconda poi di come vengono ottenute vengono etichettate come condizioni di overflow quindi sto cercando di rappresentare un numero più grande di quanto non abbia a disposizione oppure a volte trovate un valore strano che viene stampato come none che significa not a number not a number non è un numero a volte quando stampare il risultato di numeri di questo genere compare questa questa dicitura un po' strana così come se io provassi a rappresentare dei numeri che sono comprati tra 0 che si può rappresentare in modo esatto e circa 10 alla meno 38 che è il più piccolo numero che posso ottenere ancora diverso da 0 mettendo l'esponente più negativo che posso ecco qui in mezzo non ci sta nulla nel senso che i numeri reali ce ne sono ma io non li riesco a rappresentare quindi c'è un salto un salto di ampiezza 10 alla meno 38 può sembrarvi piccolo questo salto ma se invece io ho 10 alla meno 38 cose e le divido per 2 ottengo 0 che mi dà un errore diciamo così abbastanza del 100% approssimare a 0 una cosa che in realtà non era 0 quindi qua è una zona pericolosa perché si fanno le operazioni il cui risultato sia molto piccolo rischiano di essere approssimate a 0 e voi sapete che 0 è un numero per cui se moltiplico qualcosa per 0 o per qualcosa di diverso da 0 il risultato cambia significativamente e quindi possiamo avere delle condizioni che sono se vogliamo l'opposto dell'overflow che viene chiamato underflow underflow è un concetto che esiste solo nel floating point e non esiste nei numeri interi che dice che il numero è troppo piccolo per essere rappresentato come numero diverso da 0 e quindi lo approssimiamo a 0 e sapendo di fare un macello di compiere errori di rappresentazione del 100% ecco questa è la situazione che viene chiamata come underflow quindi abbiamo tre intervalli di valori un intervallo di valori negativi che va da 10 alla meno 38 a meno da meno 10 alla meno 38 a meno 10 alla più 38 un intervallo simmetrico di valori positivi che va da un numero molto piccolo 10 alla meno 38 a un numero molto grande intorno circa ecco che sono numeri approssimati circa 10 alla 38 più solo soletto lo 0 che è un numero rappresentabile ma è separato dagli altri e poi ci sono altre diciamo altre chicche altri dettagli ad esempio il fatto che se io faccio i calcoli in virgola mobile operazioni banali o proprietà banali delle operazioni aritmetiche non sono più valide non è detto che siano più valide ad esempio la somma questa è una cosa che un pochino stupisce non è associativa quindi a seconda dell'ordine con cui faccio le somme posso ottenere un risultato diverso qual è il risultato giusto? dipende in realtà il risultato giusto non otterrò mai ci sono alcuni modi di fare i calcoli che mi danno un risultato che è più vicino a quello giusto oppure meno e questo succede chiaramente quando i risultati parziali della somma vanno vicino ai limiti della rappresentazione quindi immaginiamo di avere dei numeri che sono molto grandi ad esempio questo qua è meno 1,5 un numero negativo per 10 alla 38 e questo è più 1,5 per 10 alla 38 quindi x e y sono l'opposto l'uno dell'altro ok? allora se io facessi e z è un normalissimo 1 un normalissimo valore 1 allora se io facessi x più y più z facendo prima y più z y più z cosa mi dà? mi dà un numero enorme più 1 10 alla 38 c'è un 1 seguito da 38 zeri e dopo il 38 zero io gli sommo un 1 peccato che la mantissa non abbia il numero di bit sufficienti a rappresentare tutti i 38 gli zeri e quindi quell'1 che sommo si perde qui nei passaggi si vede che questa parente di tonda 1,5 per 10 alla 38 più 1 dà come risultato 1,5 per 10 alla 38 l'1 si è perso perché era talmente in là nei bit che era oltre i 23 bit che avevo a disposizione e quindi sommandolo con x che era il suo opposto mi dà come risultato esattamente 0 se invece facessi l'operazione in un ordine diverso facessi prima x più y e poi al risultato sono massi z allora x più y in questo caso sono due numeri che sono esattamente l'uno all'opposto dell'altro uno consegno meno l'altro consegno più e quindi la somma si elide tutta questa parentesi che è la somma di due numeri esattamente l'uno all'opposto dell'altro da 0 e se sommo 0 più 1 ho come risultato 1 quindi a seconda dell'ordine con cui ho fatto questa è un'operazione limite sto sommando nella stessa sommatoria termini di segno diverso e di magnitudine cioè di valore assoluto molto diverso sto stressando il limite della rappresentazione chiaramente però a volte può succedere e quindi otteniamo dei risultati che sono radicalmente diversi 0 error 1 errore del 100% nella differenza tra i due risultati possibili quindi chi deve fare calcoli numerici usando la rappresentazione in floating point deve sempre fare estrema attenzione non solo a scrivere le espressioni giuste ma anche a fare le operazioni nell'ordine tale da minimizzare l'errore sul risultato finale sappiamo che l'errore finale ci sarà ma dipende a differenza di quello che fate quando fate gli esperimenti di fisica in cui c'è un errore che dipende dalla formula che usate quindi gli errori relativi si sommano nei prodotti gli errori assoluti si sommano nelle somme nelle sottazioni eccetera e sappiamo tenere sotto controllo l'errore teorico massimo di misura qui ci aggiungiamo un secondo tipo di errore che è l'errore di approssimazione e di elaborazione che dipende non solo dalla formula che sto calcolando ma anche dal modo in cui la calcolo dall'ordine con cui metto le operazioni e l'ordine dipende dai valori delle variabili quindi è un problema diciamo così abbastanza complesso chi fa la disciplina che viene chiamata di calcolo numerico si occupa proprio di queste problematiche come fare una sequenza di operazioni facendo in modo che il risultato sia decente e non sia completamente sbagliato sia perlomeno ben approssimato e non totalmente sbagliato ovviamente noi sappiamo che matematicamente il secondo risultato è quello giusto e il primo è quello sbagliato ma noi lo sappiamo lo sappiamo lo soppravamo già da prima senza fare i calcoli il problema è che facendo i calcoli non abbiamo la possibilità di dirti quale dei due sia quello corretto quindi questo è un problema che vi lascio aperto non lo affrontiamo ulteriormente ricordiamoci sempre che numeri reali si molto tra virgolette approssimati e con errori possibili di calcolo e col fatto che l'ordine delle operazioni ha impatto il risultato cosa a cui normalmente non siamo abituati ma chi deve addentrarsi in queste cose ovviamente se ne dovrà occupare come ultimo argomento vogliamo ancora toccare ma sfiorare poco più il resto dell'universo nel senso che noi per ora abbiamo visto come rappresentare i numeri numeri interi positivi poi numeri interi relativi poi numeri tra virgolette reali ma il mondo non è fatto solo di numeri il mondo è fatto di testi il mondo è fatto di suoni il mondo è fatto di filmati di immagini di video eccetera eccetera tutta sta roba come la rappresentiamo allora ancora una volta la rappresenteremo usando le rappresentazioni precedenti per costruire delle nuove noi abbiamo costruito il floating point sui numeri interi abbiamo detto beh allora il numero reale com'è? posso prendere l'esponente l'esponente cos'è? beh è un numero intero ok poi prendo la mantissa la mantissa cos'è? è un numero in virgola fissa ok la virgola fissa cos'è? la virgola fissa è un numero intero davanti alla virgola e un numero intero dopo la virgola quindi noi ci siamo servellati all'inizio per inventare il modo di rappresentare i numeri interi e poi li abbiamo costruiti combinati come dei pezzettini di lego per costruire le rappresentazioni più complicate più articolate se facessimo dei passi ulteriori riusciremo a rappresentare a codificare delle informazioni che sono anche di altro tipo di altra natura no? quella detta multimediale questo lo sappiamo noi nel senso che dentro il calcolatore dentro la cpu i circuiti che ci sono sono capaci solamente a manipolare dei numeri i numeri interi e poi i numeri in floating point ciò che noi facciamo per gestire le informazioni multimediali è quello di creare una corrispondenza un mapping tra dei valori numerici e dei valori di altro tipo potrebbero essere dei colori possono essere delle frequenze sonore possono essere dei movimenti all'interno di un filmato e cose di questo genere e quindi si mettono in corrispondenza dei valori numerici con dei valori non numerici in modo arbitrario o secondo certe regole una di queste cose quindi di fatto si fa un'operazione cosiddetta di codifica no? se io ho magari un'immagine con vari colori questo colore è il blu questo colore è il giallo questo colore è il rosso e beh assegnerò un codice numerico al blu un codice numerico al giallo un codice numerico al rosso avrò una tabellina di corrispondenza da qualche parte che devo conoscere e quindi rappresento come sequenza di numeri quello che è magari una serie di colori oppure con una sequenza di numeri quello che è una serie di frequenze sonore o di note musicali quindi si passa da contenuti non numerici a contenuti numerici questo è quello che in gergo si chiama digitalizzazione cioè digitale significa numerico dalla parola digit che vuol dire cifra 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 numerica cifra di un numero quindi digitalizzare un contenuto significa inventarsi un modo per codificare quel contenuto semplicemente attraverso una sequenza di numeri meglio ancora se sono numeri interi perché sappiamo manipolarli in modo più corretto in modo più veloce e con meno errori della presentazione e quindi se io avessi se dovessi rappresentare 8 oggetti diversi che qui ho chiamato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ma potrebbe essere il colore rosso giallo marrone verde azzurro nero bianco fucsia per dire potrebbero essere 8 colori diversi che mi sono inventato qua allora basta che io metta in corrispondenza ciascuno di questi 8 colori con una sequenza di 3 bit perché 3 perché 2 alla terza fa 8 se avessi 16 colori dovrei avere 4 bit e quindi mi da 16 colori diversi 2 alla quarta quando voi rappresentate un'immagine normalmente sul vostro computer sono immagini che sono rappresentate a 24 bit si dice e quindi ogni singolo puntino dell'immagine avrà 2 alla 24 colori possibili si chiama in gergo 16 milioni di colore 2 alla 24 fa circa 16 milioni 2 alla 20 è un milione 2 alla 4 è 16 quindi ogni volta che io ho un range di valori da rappresentare li posso mappare su una scala binaria e questa scala binaria avrà un numero avrà bisogno di un numero di bit che dipende da quanti valori diversi voglio rappresentare ovviamente con la solita formuletta che mi dice che i valori rappresentabili sono pari a 2 elevato al numero di bit o viceversa il numero di bit che mi serve è pari al logaritmo in base 2 approssimato all'intero superiore al logaritmo in base 2 del numero di simboli diversi che voglio rappresentare ok quindi in qualche modo mi serve una potenza di 2 che sia maggiore o maggiore uguale del numero di simboli che voglio rappresentare più simboli da rappresentare più bit mi serviranno per rappresentare ciascun simbolo una di queste operazioni l'abbiamo già vista che è quella della codifica dei caratteri quando noi scriviamo una stringa apriamo le virgolette scriviamo qualcosa lì dentro noi sappiamo che quei caratteri lì sono in realtà codificati sotto forma di numeri usando una tabella che inizialmente era una tabella che richiedeva 7 bit per carattere la cosiddetta tabella ASCI nata negli Stati Uniti che rappresentava solamente unicamente le lettere maiuscole e minuscole le cifre numeriche alcuni segni di punteggiatura e alcuni caratteri speciali di controllo e questo codice ASCI perdono era qui lo vediamo rappresentato in questa tabella in cui vediamo che il codice decimale va da 0 a 127 poi vediamo anche lo stesso valore numerico codificato in base 16 e in base 8 ricordiamo che abbiamo visto che le base 16 e le base 8 sono delle buone scorciatoie per poter rappresentare i numeri i numeri binari senza doverli scrivere per estero se chi guarda avesse scrivere i numeri binari occuperebbero molto spazio e sarebbero molto poco leggibili e poi a fianco ci sono i caratteri ad esempio la non so la lettera X maiuscola che è qui è rappresentata dal numero binario 88 e dalla sequenza invece dal numero decimale 88 e dalla sequenza binaria vediamo un po' vediamo qua in base 16 5 8 5 sta per 0 1 0 1 e 8 sta per 1 0 0 0 quindi questo corrisponde alla lettera al carattere X maiuscolo secondo il codice ASCI quindi questa lettera X maiuscola viene codificata ogni volta che compare nei nostri programmi ogni volta che compare i nostri computer in realtà sotto c'è questa sequenza di bit che rappresenta questi numeri vedete che la tabella ASCI rappresentava pochi simboli ci sono solamente queste tre colonne di simboli quindi sono tre colonne da 32 da qui a qui che contengono lettere maiuscole lettere minuscole segni di punteggiatura e cifre numeriche e poco altro non ci sono lettere accentate perché questa l'hanno inventata gli americani e loro non interessava e poi c'è una quarta colonna che è quella con i codici da 031 che invece sono i cosiddetti codici di controllo caratteri speciali tipo il famoso fine linea il carattere di fine linea quello che in python rappresentiamo con barra n il tab il famoso tasto di tabulazione che ci permette di rientrare il testo più altri caratteri di controllo che storicamente erano utili ma di fatto oggi non si usano più come ad esempio il bel che era il carattere che faceva suonare il campanellino nella stampante ogni stampante aveva un campanello in cui potevo decidere di far suonare se li mandavo questo tipo di carattere ovviamente con le periferiche che abbiamo oggi questo non ha più senso e noi sappiamo che il colce asci non ci basta perché non è in grado di rappresentare i testi scritti in lingue che non siano l'inglese tra l'altro l'inglese in cui non ci siano importate dei termini stranieri e oggi abbiamo il carattere invece il codice unicode che usa un numero di byte variabile quindi un numero di bit variabile per rappresentare i vari caratteri e ci sono alcuni caratteri che addirittura richiedono 4 byte quindi 8x4 32 bit per ogni singolo carattere quindi dai 7 bit che erano più che sufficienti per rappresentare l'alfabeto americano hai 32 bit quindi sono miliardi di combinazioni possibili per rappresentare tutti i tipi di caratteri di tutte le lingue possibili del mondo quindi la codifica di unicode è abbastanza complicata perché lei ragiona su caratteri di 32 bit però poi per non spiecare spazio alcuni caratteri rappresenta solamente su 16 alcuni su 24 alcuni solamente su 8 bit e quindi la sua decodifica è abbastanza complicata ma è quella che noi usiamo normalmente senza accorgersene ogni volta che apriamo un file python ogni volta che creiamo una stringa python usiamo effettivamente questa codifica unicode che usa appunto 2 da 32 combinazioni diverse per potenzialmente rappresentare qualunque carattere di qualunque linguaggio umano esistente questo per quanto riguarda il singolo carattere poi noi sappiamo che un testo non è fatto solo di caratteri se noi guardiamo questa slide si c'è del testo scritto non ci sono figure non ci sono immagini però questa lettera è a una dimensione quest'altra è sempre una E minuscola ma è più piccola quest'altra lettera è sempre una O ma a differenza di questa O è di un colore diverso e così via quindi quando noi creiamo un documento in realtà oltre al testo ci stiamo aggiungendo anche delle informazioni di formattazione il tipo di carattere il colore il grassetto l'interlinea la spaziatura eccetera eccetera tutte queste informazioni ovviamente immaginiamo di creare un file Word non si possono rappresentare semplicemente con un testo puro con un file Ashi o unicode puro e quindi tutti questi programmi che devono rappresentare dei testi completi useranno un formato loro vuoi il formato doc per il file Word il PDF per inventare diciamo così documenti finiti e questi sono tutti formati binari che al loro interno usano delle codifiche particolari in cui codificheranno il tipo di carattere in cui codificheranno la spaziatura l'interlinea eccetera con delle codifiche opportune che si sono diciamo così inventati gli inventori di questi creatori di questi tipi di formati quindi ogni volta che si esce dallo standard numero intero carattere Ashi ci dobbiamo conoscere le codifiche che sono state utilizzate per mappare ad esempio il singolo carattere sul sul font il singolo carattere sulla dimensione in punti il singolo carattere sulla spaziatura e ci sanno anche lì delle tabelle che convertono in sequenze di bit una certa informazione se io guardo solamente la sequenza di bit finale non mi dice nulla come se come se mi dicessero guarda in questa lettera c'è scritto questo c'è scritto questo testo e questo non mi dice nulla da solo se io non so contestualmente anche non conosco questa tabella perché io la x la potrei associare a priori a qualunque sequenza di bit hanno deciso questa tabella e questa è diventata standard però non c'è nessuna ragione vera per cui debba essere questa tabella e non una diversa ci sono messi d'accordo conveniva a tutti mettersi d'accordo i primi computer non erano messi d'accordo quindi computer di marche diverse usavano codifiche diverse non immaginate la confusione però se non conosco questa tabella io non riuscirò mai a decodificare cosa vuol dire questa sequenza di bit e quindi se io ho un file in un formato che non conosco lo vedrò semplicemente come sequenza di bit ma non ho la chiave per decodificarlo e per capire qual è il significato da attribuire a questi bit e quindi di fatto non riuscirò a leggerlo per me è una sequenza di bit diciamo opaca non trasparente non riesco a vederne il contenuto no? e questo vale a maggior ragione per i contenuti multimediali più complicati di cui però non parliamo in questo corso come audio video eccetera dove ci sono tutta una serie di codifiche ulteriori voi immaginate un'immagine la cosa più semplice l'immagine la dividiamo in una serie di righe e colonne molto fini e quindi abbiamo di fatto una serie di singoli puntini che sono i famosi pixel dell'immagine e quindi già innanzitutto devo capire questa immagine da qualche parte dovrò scrivere di quante righe e quante colonne è fatta usando dei bit da qualche parte nella codifica nel file che la rappresenta dovrò decidere quanti bit usare per ogni pixel tipicamente se ne usano 24 e di questi 24 bit ci sono 8 che rappresentano l'intensità del rosso 8 che rappresentano l'intensità del verde e 8 che rappresentano l'intensità del blu in che ordine sono questi 3 rosso verde blu dobbiamo deciderlo e chiaramente chi ha inventato lo standard di codifica dell'immagine l'ha deciso quindi per poter decodificare usare ad esempio un'immagine e lavorare su un'immagine devo conoscere come sono state codificate le informazioni o molto più spesso avere a disposizione una libreria che già conosca questa rappresentazione e questa codifica e quindi mi permetta di lavorare diciamo così con i dati che sono lì contenuti questo è come dicevamo la rappresentazione e l'elaborazione di informazioni multimediali fa parte tra i corsi più avanzati appunto per chi poi si occuperà di multimedialità e in questo corso invece non la tocchiamo ma diciamo così come concetto di base si fa usa essenzialmente il come dicevamo prima la digitalizzazione e quindi la codifica di valori diversi in valori numerici semplici con questo ho chiuso questa lezione finale sulla sulla rappresentazione dell'informazione e rimarrà ancora l'ultima lezione di teoria che invece sarà sull'architettura del calcolatore che seguirà a ruota rispetto a questa buona serata grazie grazie grazie